Tra pochi giorni in tutta Italia partiranno i saldi estivi, ma la Sicilia è la prima ed unica regione ad averne anticipato l'inizio di una settimana. Sono partiti infatti lo scorso primo luglio nei negozi e nei centri commerciali dell'isola le offerte e le grandi occasioni che hanno dato il via alle lunghe file piene di clienti alla caccia frenetica dell'affare, con particolare riferimento ai negozi di abbigliamento e calzature. Un inizio però un po' a rilento, come registrato dal Centro Studi di ConfCommercio, che stando alle previsioni vedrà registrare dati molto simili all'annata precedente, con un possibile lieve calo degli acquisti. Il presidente di ConfConsumatori Sicilia, Carmelo Calì, in linea con i consigli diffusi da FederConsumatori, ha fornito alcune dritte su come affrontare al meglio la nuova stagione commerciale ed evitare fregature. Verificare prima dell'inizio dei saldi il prezzo dei beni a cui si è interessati, per valutare a tempo debito la reale convenienza una volta applicato lo sconto. Confrontare i prezzi e non acquistare d'impulso. Orientarsi verso i beni di cui si ha una reale necessità. Verificare se i prodotti in saldo appartengono alla stagione precedente. Stabilire un budget di spesa da rispettare. Controllare le etichette e non farsi abbindolare dalle grosse percentuali di sconto decantate dalle vetrine, che invogliano il cliente a fare compere. Importante poi è la scelta dell'esercizio commerciale, che può essere la piccola bottega o il grande magazzino. Scelta che spinge da un lato all'acquisto all'ingrosso e dall'altro al dettaglio, e su cui pesa la fiducia del consumatore nei confronti del venditore. Da non sottovalutare, infine, la tendenza sempre più significativa registrata negli ultimi anni, relativa alla pratica dell'acquisto online, che da un lato elimina le lunghe file alle casse dei negozi, ma dall'altro tende ad annullare il contatto umano e svilisce il ruolo del personale del negozio, che in alcuni casi risulta determinante per la scelta d'acquisto del cliente. Il consiglio, in questo caso rivolto ai commercianti, è quello di analizzare più a fondo questa tendenza e mettere in atto delle strategie concorrenziali che invoglino il consumatore a scegliere il proprio negozio, magari tramite la creazione di carte fedeltà, buoni sconto o la creazione di un sito o pagina online in cui mettere in mostra i propri prodotti e segnalare le promozioni in corso. Queste dunque sono le principali cose da tenere a mente per un acquisto oculato e consapevole, che permetterà ai consumatori di evitare problemi e orientarsi al meglio nella giungla delle offerte.